Twitch ha di fatto reso come standard di fatto che tu ogni giorno vai lì e streammi e se un giorno non c'hai voglia, stai in malo, quello che è, comunque l'aspettativa c'è e uno a quel punto dice ti tolgo la subscription perché magari una settimana non ci sei stato e seguo qualcun altro, quindi c'è questo tipo di pressione Succede questa cosa ed è molto grave perché va a creare proprio esaurimento in molti streamer Io stesso all'inizio la sentivo questa cosa e mi è stato detto da un mio caro amico che si chiama Vicious, lui è molto più grande di me, ha quasi 40 anni e streamma pure lui lui pure un ex giocatore professionista tanti anni fa e l'ho sempre preso come modello in alcune cose mi è sempre preso sotto la sua ala e mi ricordo che un giorno mentre avevo iniziato a streammare da qualche mese mi chiamò e mi fece, Giorgio ma perché nel titolo metti il numero degli abbonati? e gli fa, cioè perché ci stiamo avvicinando al nuovo obiettivo quindi magari la gente è più motivata e lui mi fa, stai sbagliando tutto, questa è la ricetta dell'infelicità perché tu, la tua streaming, i contenuti che porti sono buoni o magari vanno male in base a se quel numero cresce o diminuisce quindi quel numero indica anche la qualità del contenuto che stai facendo cioè sì, ti condiziona camminosamente levalo e non guardarlo nemmeno nella dashboard dello streaming dove puoi monitorare nascondilo, fai la tua streaming se qualcuno magari te lo vuole chiedere in chat premi il tasto e lo vedi e lo visualizzi ma non stare a guardarlo perché se no non stai facendo quello che ti piace perché a me piace veramente streammare cioè penso che tutti l'hanno capito gioco tantissime ore ogni giorno e le giocavo pure prima di streammare mi piacerebbe creare in futuro nuovi format per quanto riguarda Twitch io ho già rivoluzionato Twitch in Italia però voglio portare nuove cose perché dici hai rivoluzionato Twitch in Italia? ho, diciamo, messo dei paletti su Twitch che prima magari tutti avevano il loro webcam, il loro microfono, streamavano e facevano il loro io ho cominciato a creare grafiche dinamiche in CSS e HTML ho cominciato a comprare setup audio proprio con compressori e tutto il resto, noise gate e tutto il resto hai alzato il livello al posto di utilizzare una webcam utilizzo una fotocamera con un obiettivo da 16 mm per avere una qualità migliore e anche per avere più luce magari in un ambiente in penombra quindi che si veda che risalti anche le luci che ho in casa ho pensato all'illuminazione ho creato un setup a doppio PC per avere una qualità migliore in modo che un PC streama solamente quindi fa solo quel lavoro e lo posso spremere al limite mentre invece l'altro gioco e basta quindi posso premerlo per quanto riguarda le prestazioni